Lanciamo la prossima intervista realizzata a Luigi Scaglione, presidente del Centro Studi Lucani nel Mondo e membro del CGE. Con Luigi Scaglione alla presentazione del rapporto Italiani nel Mondo 2021, un appuntamento fondamentale, immancabile. Ci sono tanti amici e tante personalità in questo evento della Fondazione Migrantes. Diciamo che questo è un po' il vangelo dei racconti che ci facciamo durante un anno intero come consulte regionali, come CGE. Come associazionismo in generale che si occupa degli italiani nel mondo. Senza questi dati, i dati di Migrantes, a noi mancherebbe il pezzo più importante, cioè quello di conoscere i numeri, i nomi e anche i flussi di migrazione che in questa annata sono condizionati dalla pandemia e come stava raccontando anche stamattina Delfina Licata. Ci sono dati strani che ci fanno capire che ad esempio non c'è più la mobilità, non c'è stata più la mobilità verso i paesi sudamericani o del Nord America, ma addirittura verso il Regno Unito, nonostante la Brexit e nonostante la pandemia. Questo è accaduto un po' in tutte le regioni, con una prevalenza, secondo i dati ufficiali, da Veneto, Lombardia e Sicilia, un po' meno da alcune regioni meridionali che invece hanno accolto di più, hanno tenuto di più perché probabilmente la gente ha pensato di proteggersi e quindi di viaggiare di meno. Ma la migrazione dei giovani continua ad essere costante e continua. Tra l'altro è notizia proprio di pochissimi giorni fa, la riapertura dopo un anno e mezzo dei confini degli Stati Uniti d'America, una notizia che fa ben sperare non soltanto per il turismo ma anche e soprattutto per il riabbracciarsi. Abbiamo letto tante storie belle degli italo-americani che potranno riabbracciare le proprie famiglie. È un momento storico anche questo? Come no, anzi proprio i racconti che ci ha istituito la televisione in questi giorni giornali ci fanno vedere questo mondo che tenta di riunirsi, una nonna che va a vedere per la prima volta il nipotino nato in questo periodo negli Stati Uniti è una cosa bellissima che ci emoziona e ci fa capire che questo mondo deve ripartire come sta ripartendo la riapertura delle frontiere da parte degli Stati Uniti è una delle più belle notizie che si poteva avere con cautela, con attenzione, con le precauzioni del caso. Continuiamo a non capire che significano essere no-vax o a non accettare delle regole rispetto al Green Pass ma questo ognuno poi ha una sua dinamica personale ma io spero che si capisca che proprio dalla notizia della riapertura delle frontiere che c'è un mondo che vuole continuare a dialogare, a confrontarsi e che deve continuare su questa strada. Chiudiamo con una notiziona, dopo 12 anni torna la plenaria del CGE in presenza, un appuntamento, insomma manca poco un appuntamento molto sentito. Ci stiamo lavorando già da sei mesi, la conferenza Stato-Regioni-Provincie Autonome CGE che è denominata quarta plenaria non si riunisce infatti da 12 anni è lo strumento fondamentale per determinare le politiche in favore degli italiani nel mondo. Interverranno molti ministri, i lavori saranno aperti dalla ministra Gelmini su delega del presidente del Consiglio dei Ministri Draghi che ha convocato proprio ieri l'altro la conferenza con una nota ufficiale e contestualmente si tenterà di dare delle linee, ci sono già dei documenti di base che in questo mese di preparazione proveremo a far distribuire ancora più sperando di poter dettare delle linee che il Parlamento e il Governo immagino possano servire agli italiani nel mondo. Posso solo dire una cosa, sto notando, stiamo registrando una caduta di attenzione nei confronti degli italiani nel mondo e questa è una cosa gravissima perché c'è un mondo che gira intorno a noi e che ci ha dato tanto e che io in mezzo potrei ancora darci ancora di più. Allora in chiusura io chiedo a Luigi Scaglione un saluto a tutti gli italiani nel mondo che possano appunto riunirsi anche o in Italia o in qualunque parte appunto del globo con i propri familiari. Li aspettiamo anche virtualmente alla prossima plenaria conferenza state che potranno seguire ufficialmente ma soprattutto li aspettiamo in Italia il turismo di ritorno e il turismo delle radici sono due grandi occasioni che anche il Ministero degli Affari è, ma le singole regioni stanno mettendo in gamba io credo che su questo potremo lavorare e sperare. Bentornati quando tornerete, bentrovati quando ci rincontreremo.